Buongiorno, ben tornata signorina Ludovica. Ah, signorina. Prendi questa. Tieni bella, tieni. Signor Conte, signor Conte, signor Conte. C'è De Rosa. Sono arrivati. Bene, dica alla cuoca che non ecceda con gli aromi. Gli aromi? Gli odori, così. Ah, tesoro, sei qui. Pensavo che domani, se per tempo, potremmo portarli al lago. E poi li portiamo a sentire Mozart. È solo mezz'ora di macchina. Sì, fa benissimo. Io vado. Sì, ti riuscito. Fai presto. Ludovica, tesoro. Ben arrivato. Papà. Che bello. Si chiama Circe. Circe. Ah, abbiamo un ospite in più allora. Piacere, Aldo Morelli. Mia figlia mi ha parlato molto di lei. Sono contento di averla qui. Ciao, tesoro. Ciao, papà. Avete fatto un buon viaggio? Ah, ecco la mamma. Evidentemente lei sei simpatico. A me la prima volta abbaiato. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Allora se non ho capito male, la materia che insegna... scienze politica. non è proprio un sogno è un sogno realizzato. ma poi Aldo adora Mozart. E il Don Giovanni, soprattutto. Sì, ma attento a non identificartici troppo, mi raccomando. E tutti noi pensiamo al Don Giovanni come a un semplice seduttore. ha un tombeau de femme, ma questo è solo l'aspetto esteriore della sua personalità. Io penso che sia un personaggio molto più complesso. E lei, contessa, che ne pensa? Ah, del Don Giovanni. Beh, penso che la musica è immensa. Il personaggio non mi interessa. Non dimentichi che le sue conquiste femminili superano il migliaio. Ma io resto della mia idea. Sono sicuro che almeno una volta abbia amato. E comunque, le sue scelte le ha sempre pagate. Questo non glielo rende un po' meno antipatico? Perché ci tiene tanto la mia opinione? Sembra che ne stia facendo una questione personale. Mamma. Sì? Tutto bene? Sì, benissimo. Grazie. Beh. Bisogna dire che Mozart non finisce mai di coinvolgere. Lodovica. Mamma. Che c'è? Lodovica. Io... Io non so come dirtelo. Oh, Lodovica. Lodovica. Sì. Sì, arrivo. Allora? Te lo dico domani. Buonanotte. 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 Buonanotte.